Cobane Colling Facce, parole e scarabocchi da Re Bibbia al confine turco-siriano Scritto e letto da me, Zero Calcare E questi? Quando senti Ratatata, è Isis Quando senti Tum Tum Tum, siamo noi E Sboom? Sboom dipende Fuoco e poi Sboom e americani Sboom e basta, è Isis E quello che è? Quello è tracciante Per illuminare dove spari A cucchiaio da sinistra a destra è Isis Da destra a sinistra siamo noi Basso basso raso terra è Turchi Chiudo gli occhi Cerco di mettere a fuoco gli eventi Per rispondere sempre alla stessa domanda Come cazzo ci sono finito qua? Prologo Forse c'è bisogno di un po' di prologo Non so mai bene quanto andare indietro con gli eventi Due giorni, una settimana, un mese Ecco, questo è martedì scorso Sto andando da mia madre a comunicarle la notizia E c'è una specie di déjà vu Ho 31 anni Eppure mi sento come quando mi hanno sospeso da scuola a 14 Genitore 1, genitore 2 Voi riuniti qui nonostante il vostro divorzio Per darvi una notizia buona e una cattiva La buona è che ho dato da mangiare al gatto oggi Non mi ringraziate, si ho fatto così L'ho fatto col sorriso Le cattive è che mi hanno sospeso perché ho tirato un petardo alla preside Andiamo a cena? Perché sbagli approccio Mi dice la mia coscienza in forma d'armadillo Concentrati su un punto Non stai andando proprio a Cobane Anzi, usalo il meno possibile quel nome Cobane Ti si incrina la voce solo a pronunciarlo Mentre scrivevo queste parole La mente ha evocato distintamente questo scenario agghiacciante Incrina la voce Ma incrina cosa? Ma che cazzo è Cobane? Un gioco di parole? Cart Cobane? Io capisco solo i doppi sensi sulla fregna Scusate se non sono raffinato Come voi papaverina mi dati Oh regà, scusate Giuro che non vi prendo per coglioni Ma una volta una tizia che rappresenterò come un koala Mi ha chiesto questa cosa qua Ma davvero hai un fratellastro congolese? E vive qui? O in Congolia? Per questo ora faccio un breve riassunto Se sapete già tutto schippatelo come la pubblicità prima dei video su YouTube I curdi sono un popolo diviso in quattro stati Turchia, Siria, Iraq e Iran In ognuno di questi stati la loro identità è stata repressa e assimilata Dal 2011, durante la guerra interna siriana I curdi siriani hanno proclamato l'autonomia di una striscia di terra divisa in tre cantoni Io porto un fiore per tutti gli storici, gli analisti geopolitici e gli amanti dell'approfondimento E' stato morti nell'ascolto del tuo riassunto Aggiunge Armadillo Possa iddio avere pietà di noi Vabbè cazzo, volevo vedere te in due secondi e mezzo L'annuncio Mi dici una sera di queste che sei libero? Che invito a cena Fabrizio e Anna? Ci tengono tanto a vederti Ti hanno visto nascere Gli ho pure regalato il tuo libro Ah scusa mamma Sto super impicciato a sto periodo Dopodomani c'ho la gastroscopia Settimana prossima vado in Kurdistan Settimana dopo c'è la fiera del dattero illustrato Occhio a mezz'asta Spiga di grano in bocca segno del menefregalismo zen Stuzzica denti per distrarle l'indignazione di mi madre In Kurdistan? Ma mica vai a Cobane? Eh? Là si sparano Ma vaa Ma che Cobane? Cioè non Cobane Cobane Che ce vado a fa' là? Mica so sparà Vado a Meser Che sta vicino ma manco troppo E' tipo Re Bibbia Santa Maria del Soccorso So tre fermate di metropolitana Ok calcare preparati Mo sbroccano Fanno i matti In cassa Controbatti Argomenta Ricorda come vent'anni fa Ha cominciato lei mettendomi una nota per il ritardo Quando la campanella non era manco suonata Vabbè Tanto ci scrivi un messaggino ogni tanto no? Certo non capisco Perché non vai a quel campeggio a pesce Con le docce pulitessime E mi passi altro pepe? Sono perplesso Sembro calmo Ma in realtà vorrei gridare Ma di mortacci vostri Mi cagate il cazzo Se vado in macchina con la pioggia Perché se scivolo è pericoloso E mo che vado a Cobane Ve ne frega un cazzo Oh guardate che dai Gli occidentali li rapiscono Gli decapitano Ma che ne la guardate la tv Allora fai un report sui morti Sui cadaveri ancora tiepidini Sulle feci che espelli Quando stai per morire Sul tempo di coagulazione del sangue Che fuoriesce dai fori Non far caso che sto ansimando E' una cosa ormonale Ma vaffanculo sciagalli de merda Ma come andate? E come dobbiamo andare? Ma in aereo Prima facciamo Roma-Istanbul Poi un altro volo interno Fino a Sagliurfa Poi con una corriera Arriviamo a Surucy Attenti che in Turchia Corrono come pazzi Sta cosa che vado in una zona di guerra E mi madre si preoccupa solo del codice stradale E' una cosa patologica E poi? E poi boh Cerchiamo un passaggio Un taxi Un bus Ma che cazzo ne sono? Ma stiamo in otto Sicuro qualche secchione Si sarà stampato da internet La soluzione per arrivare là Per arrivare dove? A Meser Mi prometti che stai attento? Davvero? Guidano peggio che a Napoli là Ciao, buonasera a tutti Buonasera Ciao Siamo qua felicemente molto agitati Devo dire perché ci immaginavamo Tutti e tre che fosse un po' più piccolo Ma siamo arrivati E siamo pronti ad affrontarvi Stiamo qua con Zero Calcare Ed Emanuela Fanelli Per l'uscita di Cobane Calling Nella versione audiolibro di Storytel Salutoni, salutoni Ciao Il mattatore che noi tutti conosciamo Insomma si è espresso Buonasera a tutti Ciao Qua volendo possiamo inserire qualche battuta indimenticabile su Zero Calcare Che firma e fa disegnetti da 200 ore Nell'ultima settimana è rimasto qua Oppure su Zero Calcare che non sa raggiungere la mia città natale Piacenza Facciamo così L'abbiamo fatto Allora Una cosa sicuramente interessante Che esploreremo durante questo appuntamento grimitissimo È il making of di un audiolibro Soprattutto di un audiolibro che arriva da un fumetto La prima domanda che mi è venuta spontanea A parte poi le esplorazioni che faremo Come è stato letto Qual è stato il lavoro che c'era dietro È perché proprio Cobane E perché proprio adesso Domanda facile da così Di riscaldamento Allora Rispondo Come se fossi io ad averlo deciso Come ti pare? Non bene Nel senso che La proposta è arrivata proprio da Storytel Alla casa editrice stessa alla BAO Ovviamente me l'hanno chiesto Non è che lo fanno in capoccia a me E Credo che i motivi siano tanti Uno è che era un titolo Che aveva una sua Fruibilità Anche al di là Dell'aspetto grafico Nel senso che comunque Cobane Rispetto a altre robe Soprattutto rispetto anche a Babbo Morto È vero che è un fumetto Però contiene tantissimo testo E ci sono tantissime Anche informazioni C'è anche un valore proprio informativo Al di là della parte fumetto E quindi quella roba Evidentemente Si presta Anche più facilmente A eliminare la parte fumettata Più che eliminarla A sostituirla Con il lavoro D'arrangiamento E perché proprio adesso Boh prima di Natale No Non lo so Io ti posso dire perché è importante per me Che esca adesso Non credo che necessariamente Siano i motivi che muovono Anche voi Che hanno mosso tutti Però sicuramente per me È super importante Che sia uscito adesso Perché I curdi sono spariti dal radar Delle notizie Dei telegiornali E dell'Occidente In qualche modo Perché non ci servivano più Diciamo È stata archiviata La fase ISIS E quindi in qualche modo Non ci interessa più tanto Quello che succede lì Però in verità È il momento più drammatico Nella loro parabola Perché se con l'ISIS C'era in qualche modo Una sorta di proporzione E di equilibrio Tra i combattenti in campo Adesso in realtà È la Turchia Che è il secondo esercito Della Nato Che sta invadendo Il Rojava E sul campo Ci sono gli stessi combattenti Dell'ISIS Che hanno sostanzialmente Avuto una casacca nuova Da parte della Turchia E adesso Sono bande dei jihadisti Che fanno il lavoro Sul campo Per l'esercito turco Quindi in qualche modo È il momento Su cui forse Molto più di prima Dovremmo cercare Di guardare Quello che succede E di renderci conto Che sono tutte cose Che ci si ritorceranno Contro pure a noi Quindi sono contento Se se ne riparla In questo momento qua Ok Un treno Hai visto? No No Vabbè Abbiamo agitato Veramente Ma ce la stiamo facendo È verissimo Se parla di Gurti Io posso Se il resto Puoi diventare il dramma Infatti ti faccio le domande Sull'arrangiamento Adesso così No È verissimo Quello che dici Sul fatto che Sia sicuramente Un fumetto Che si presta A un arrangiamento Che allarga un po' Il mondo sensoriale Diciamo Perché ci sono Tanti posti Che si visitano Tante voci diverse Tanti incontri Tanti rumori Che effettivamente Si trasportano bene Forse è anche Un esperimento Doppiamente difficile Lavorare a un fumetto In versione audio Che Magari per il nostro Mercato italiano È stato fatto Un po' meno Rispetto a degli altri posti Forse hai iniziato tu Proprio con Ababbo morto Lo scorso anno E sicuramente Questo libro Ha La grande Non lo so Il grande pregio Di fare quello Che tu fai sempre Cioè di raccontare In una maniera Molto sincera Molto di cuore Ma anche molto completa Molto vera Delle cose difficili Scegliendo però Le parole giuste Che sono quelle poi Che trovi sempre tu Per l'adattamento audio Avete fatto dei tagli Ci sono state delle variazioni Cosa succede Quando prendi la pagina Che tu avevi scritto E devi dire Ok questa cosa Deve diventare comprensibile A livello di audiolibro Deve diventare una cosa Che si sente Allora In realtà Sono stati fatti Delle modifiche minime Nel senso che Praticamente Le uniche cose Che sono state effettivamente Modificate Sono quelle che erano Proprio puramente visive Quindi magari Se erano cose Che erano importanti Venivano magari Riarrangiate le frasi O con i rumori Si vi faceva in modo Che si capisse Un po' quello Che l'immagine Rappresentava E se no A meno che non ci fosse Magari tipo La gag Per cui bisognava Proprio vedere Quella cosa lì E non era descrittibile Perché quelle robe Magari venivano Ma sono veramente Penso che si contano Sulle dita di una mano Tagliate Perché erano pure Un po' superflue E Impossibilità A rappresentare Se no Devo dire Che in verità Tutto al più Magari si trattava Di girare la frase Un po' diversamente Per fare in modo Che quella roba Fosse accessibile Subito Ma devo dire Che i miei fumetti C'hanno un vantaggio Che hanno una grossa Presenza Della voce fuori campo Che è anche Molto spiegonona E quindi Questa cosa qua Tutto sommato Ci ha aiutato Secondo me Poi devo dire Che sono stati Molto bravi Quelli che l'hanno Fatto Perché io poi Non sono io Che ho curato Esattamente La trascrizione Di questa cosa Io ho dato Soltanto delle suggestioni Nel momento In cui Al momento della lettura Mi rendevo conto Che c'erano delle cose Che potevano essere girate Un po' più fluidamente Però insomma È stato veramente minimo Il lavoro È un testo Che è quasi Veramente letterale A proposito di Come si registra Come si rende Io vedrei adesso Il video di Emanuela Che così poi Chiacchieriamo Così poi mi sparo Perché non l'ho visto Parti con il cuscio Questo video Sono arrivata in Italia Sei anni fa Parlo bene Ma sono nata E cresciuta Di Erbakir A 13 anni Sono stata Una manifestazione Per i diritti Del nostro popolo Era per il diritto A parlare La nostra lingua In pubblico È finita Come finisce spesso La polizia Che spara I gas Le fiamme Le barricate Lì mi hanno arrestata Vicino a una macchina Che bruciava A 13 anni Ho passato 6 mesi Nelle carceri Antiterrorismo Turche Il carcere Mi ha resa più convinta Ero sopravvissuta Ero sopravvissuta Avevo conosciuto Altre donne A 16 anni Ero invincibile ormai Avevo i miei compagni Cosa potevano farmi? Sparare Sparare ancora Sparare a pezzi Del mio cuore Grazie 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 Com'è rivedersi Mentre si legge Un audiolibro? Un sogno proprio La voce Tutto Vabbè È venuto meglio Poi nell'audiolibro Perché non vorrei Fosse una pubblicità Sbagliata Allora È sicuramente stata Una registrazione Anche corale Perché ci sono Tantissime voci Tantissimi personaggi Alla fine Quello che viene fuori Che c'è una divisione Tra Michele Tra te E tra Stefano Fresi Poi chiacchiereremo Magari anche di Stefano Si vedrà il suo contributo Perché lui è il mammut Che in questo momento Non è nella stanza Anche se gli elefanti Stanno nelle stanze Di solito La cosa che ti volevo chiedere Qual è il tuo personaggione Principale E Com'è stato questo lavoro Corale anche Allora Il personaggio Principale Mio È questo qui Che è Ezel L'interprete No Lo guardo Perché Io ho chiesto prima Si dice Ezel o Ezel Lui che l'ha pure conosciuta Mi ha detto Boh Non lo so Di fai te Questo è Grande aiuto Che mi dà Michele Perché dice Che i kurdi Cambiano gli accenti Come vogliono Non credo Credo sia una cosa Che mi lanta lui Però Quindi Ezel Lui mi ha detto Tu dinne uno Io ti seguo Quindi Comunque Ezel Che è l'interprete Che ha conosciuto Michele Che è una ragazza Molto pimpante Ma come abbiamo potuto vedere Da questo estratto In realtà Una storia privata È una storia privata Importante E pesante E noi però La conosciamo Come una carica Molto vivace Vitale Anche un po' fastidiosa A volte Per quanto è carica Insomma E È stato bellissimo Interpretarlo Ovviamente È un personaggio Molto bello E soprattutto Io non avevo mai Fatto un audiolibro E questo è il primo E leggere un fumetto È un po' Più simile forse A doppiare un cartone animato Che a leggere Un libro Un audiolibro Perché comunque Devi cercare la voce giusta Che vada bene Con le espressioni Con il tipo di carattere Del personaggio Poi lei era Molto sopra le righe E E quindi Per me è stato Molto bello In più È anche un po' Il senso Del lavoro Che Che faccio Quando pensi A vabbè Non so Fa solo la pagliaccia Così a rite Non perché io mi disperi E anche Delle eventualità Di fare la pagliaccia Però Comunque penso Che una storia Così lontana Magari Se senti La voce di una Che magari Ti può essere Stata simpatica È ancora più vicino Come è già più vicino Per il talento Di Michele Guarda Mi dispiace pure Di talento Pensa che T'ho detto così E Risulta grottesco Infatti Sì Infatti è venuto Un po' finto No Però Già lui Già lui È bravissimo In questo Nel senso che Il suo talento È proprio Nel rendere vicino Qualsiasi argomento E Per quello Cobane Calling Secondo me È così importante E quindi Sono stata molto felice Di lavorare Con lui Ma Michele Vi ha un po' aiutato Ad aggiustare Il tono Magari Perché Comunque sono Personali No a zero Lui si è fatto Il suo Non l'ho mai visto Pensa Ma avesse fatto Una telefonata Prima Niente Ma no Perché io mi immaginavo Sono tutti personaggi Che lui ha conosciuto Con cui ha trascorso Del tempo Anche in zone pericolose Magari Si è messo lì Ha detto Ma guarda In realtà lei è un po' più così A me un giorno mi hanno detto Vero Incredibile Quello Grazie Domanda per Michele Per poi mandare Il magico video Di Stefano Fresi Che così voi vi rilassate E non vi dovete riguardare La domanda è Tu ti sei un po' allenato Comunque A Non lo so Doppiare Tra virgolette Ti sei letto a babbo morto Eccetera Ma tu in realtà Che tipo di lettore sei? Come sei in cabina di registrazione? Ma io sono una pippa Nel senso Non posso Tanto sta sotto gli occhi di tutti Non è che posso mentire Su questa cosa Io evidentemente Non sono uno Non sono un attore Non ho grossi date interpretative Quindi se si tratta di leggere Velocemente delle cose Per levarne dal cazzo Insomma in quel senso là Sono capace a farlo molto bene Se si tratta Dei trasmettere emotività E calore Eccetera Evidentemente Non so Bona Fa questa cosa Ma Il L'unico Diciamo Questo è tutti i motivi Per cui Nessuno dovrebbe chiedermi Di leggere un audiolibro Il motivo però Per cui invece L'unico vantaggio Che c'ha Questa cosa È che L'ho scritta io E l'ho scritta Quando scrivo Faccio un super lavoro fonetico Di Mi sento sto cazzo Il lavoro fonetico Nel senso che mi sforzo molto Poi magari il risultato è mediocre Però mi sforzo molto Per cercare di scrivere Il più vicino possibile A come parlo O come parlerei E quindi quando effettivamente Mi trovo a leggere quelle cose Non è che sto leggendo Guarda Mi è capitato che qualcuno Non lo posso dire Niente E vabbè niente Quando qualcuno Prova a mettere in bocca Al mio personaggio Delle cose E mi dice Legge una roba del genere Io non ci riesco Perché è qualcosa Lontanissimo Da come mi esprimerei io Qua invece Sono tutte delle cose Che effettivamente Mi trovo molto familiarità Con quel linguaggio E quindi Mi risulta un po' più semplice Grazie ai lavori fonetici Che tu quotidianamente Al super lavoro fonetico E uno Non sono vari Lo fai una volta e basta Per capire Perché è interessante Ma tu ti rileggi ad alta voce Magari lavorando È una curiosità Perché traducendo Quando finisco Me lo leggo tutto ad alta voce Nesco affona Devastata Però mi aiuta molto A sentire come gira la frase Non lo so Magari è una fissa mia Che non ha senso Ah io non rileggo mai Una cosa che ho finito Per intero Mai nella vita Però Se Cioè Leggo Non so se è alta voce O a media voce Tipo sussurrando Qualcosa del genere E però Questa cosa La faccio Per le singole battute Per vedere Se suonano naturali Emanuele La domandone Che faccio a te Ma no domandone Ah ok Io introduco Domandone L'unità d'Italia Sembrava Super lavoro Uniti Una cosa del genere Domanda Magari Tu hai lavorato Con Stefano Comunque Siete stati più limitrofi Rispetto a Zero Calcare Che t'ha abbandonata Nella registrazione Nessuno M'ha chiamato Noi ci dovremmo inventare Una cosa Per cui sai Quelli fanno pure Gli attori Guarda Ci siamo chiusi Con Michele 15 giorni In una baita Con lui Che ci spiegava Queste cose No in realtà Ecco pure su Stefano Non l'ho incrociato Stefano Cioè è una cosa Fallimentare questa Sono stata Non abbiamo aneddoti Non ho aneddoti No Però c'è il covid Oh Non si può stare in tanti Eh Bravo A causa del covid È stata una produzione Rispettosissima Delle norme Sì no Infatti no Era quello Certo Dovemmo andare Una volta per uno È vero Quindi no Non l'ho incontrato Stefano Ma è bravissimo Allora ci facciamo introdurre Però il mammut da Michele Certo Perché almeno il personaggio Che lui appare A un certo punto Come la tua coscienza di casa Alla fin fine Anche quando sei nei posti Più sperduti Remoti E mangi le lenticchie Per colazione E vedi delle cose Piuttosto preoccupanti Hai il mammut Che ogni tanto ti interroga Su Ma tu qua ci staresti Veramente Sì Diciamo che quello Sono molto contento Che l'ha fatto Stefano Presi Perché non avevo proprio idea Di che tipo di voce Ci dovesse avere il mammut Nel senso che È quello che serve Dentro tutto il libro È il personaggio Che È il mammut Perché a Re Bibbia C'è Ci sono le ossa Di un elefante Antico Che noi chiamiamo Il mammut Del plestocene Ritrovato È l'unica cosa bella Diciamo che ci possiamo Rivendicare in quel quartiere E quindi abbiamo Un grosso attaccamento A quella cosa E quindi Dentro al libro Io lo uso Come la parte Della mia coscienza Più legata al quartiere Che mi chiede Perché sei andato Così lontano Da Re Bibbia Me lo sta chiedendo Anche in questo momento Esatto E quindi Non sapevo Che voce dargli Perché è una roba Che sta nella mia testa E basta E il fatto che abbia accettato Stefano Fresi di farlo È qualcosa Di cui sono molto contento Bene A posto Esprimeremo anche noi La nostra contentezza Vedendoci Stefano Fresi Che legge E che ci manda anche dei saluti Perché non è potuto venire E quindi Ci manda i saluti così Scusa eh Cacca Bello lutto Bella resistenza Bello sacrificio Ma tu stai a far vago Sua domanda iniziale Te ci trasferitesti o no A vive in Rociavà Ma non vi cazzate Ma non ci credo Che stai a titubare Stai a fare sta scena Solo perché Sinno i curdi Si offendono E digli Grazie Ma non ci penso Magari vediamo Come lo fanno a diventare Sto posto Se vincete voi Eppure un po' Presto per giudicare No? Sono solo quattro anni Che stanno facendo Sta rivoluzione No? Sono solo quattro anni Che stanno facendo Sta rivoluzione Buonasera a tutti Mi dispiace moltissimo Non essere su questo palcoscenico Accanto a Emanuele Fanelli Accanto a Zero Calcare A parlare di questo progetto meraviglioso A raccontarvi perché Ci è venuto in mente Di dare al mammut La voce di tanto Fabrizzi Che c'è questa romanità Elefantiaca E mi dispiace molto Però Dice non basta Che ci mandi il video Così te la capi così No Vi mando il video Mio Di saluto E di abbraccio Ma vi mando anche il video Da parte di me Visto da Zero Calcare E niente Mi sarebbe tanto piaciuto Stare la stasera Ma non sono potuto venire E comunque Comprate questo libro De Gobani Perché è veramente bello Molto bello Io adesso vi saluto Perché come vedete Sto a sudare Bene Io ora sono molto felice Perché posso finalmente Essere quasi del tutto Derresponsabilizzata Perché vi mando a leggere No già Già non volete leggere Già la recita Volete recitare dopo Magari recitate Poi diciamo qualcos'altro Vedete voi Sì Non lasciamo quell'immagine Al pubblico Sì che metti Che va male Poi facciamo un'altra cosa Che la tiriamo su Vedi Tutto studiato Forse non si può Forse chiacchieriamo D'altro Forse non è il momento Non è il momento Ma pure per loro Coracci Ma io non vedo nulla Tra l'altro Quindi potrebbe non essere Il momento Sì restiamo così Ma continuiamo a parlare Continuiamo a parlare Va bene Continuiamo a parlare Così poi è tutta responsabilità tua Adesso infatti sono distrutta Perché io avevo creato Questo momento di vuoto mentale In cui potevo Ah ok Adesso mi riposo E viva Adesso tocca a te Cosa pensi Della situazione kurda? Ma io Se devo rispondervi In maniera Da lettrice Che è quello che alla fine So fare Io sono molto contenta Che Zero Calcare Si sia incaricato Anche di fare una cosa difficile Lo fa molto spesso Magari parlando di cuore Di sentimenti Della nostra generazione Era lui alla fine Ha due anni più di me Quindi gli siamo Un anno e mezzo Un anno e mezzo Perché mi ha detto Ma tu di che mese sei io? Marzo Lui Allora un anno e mezzo solo 83-85 E quindi io mi ritrovo Sempre tanto in quello che In quello che leggo di suo Un po' perché usa Delle reference Diciamo E dei riferimenti Che sono quelli poi Del nostro Del nostro Sottoterra Del nostro fondo Di cartoni Di letture Di film Eccetera Però li usa in una maniera Che comunque Riesce sempre A parlarmi davvero E mi parla davvero Dicendo sempre Quelle famose cose difficili Che in questo caso Sono ancora più difficili Perché qua fai proprio Geopolitica Ma ogni tanto Tu hai sempre un po' Questa cosa Anche sentendoti raccontare Poi il tuo lavoro Di Eh vabbè Io faccio i disegnetti Però Non mi si può accusare Di non impegnarmi abbastanza Di non fare anche i temi difficili E questo Tu lo vedi più Come un tema difficile O come Tu che hai fatto Ci hai provato Ma resti sempre Quello dei disegnetti Alla fine No questo Lo vedo Una cosa A cui mi costringono Sostanzialmente Nel senso Che poi Vabbè In realtà La roba Di Di Cobane Era Io Sono stato lì Non per fare i disegnetti Io sono stato là Perché facevo parte Della mia Diciamo La mia parte De vita Comunitaria Con Centri sociali Collettivi Eccetera Con cui siamo andati là E poi Mi sembrava che Se non facevo Questo Io non so Un ingegnere Non gli posso aiutare A costruire le cose Non posso Non so un medico Non so un infermiere E L'unica skill Che io avevo Era quella di fare i fumetti Se non facevo i fumetti Veramente Allora ero andato a fare turista E basta Sì ho portato le medicine Però poteva starci Una Chiunque altra persona Che forse a cui piace pure Andar fuori da Roma E quindi Si sarebbe goduta Questa cosa Molto più di me Quindi insomma In qualche modo Mi sembrava fosse De non potermi sottrarre A questo Fatto qua Se volevo Da un contributo Specifico mio A quella cosa lì Ah io Posso inserirmi Certo Devi Da lettrice Di Cobane Calling Punto come Lei lo leggeva prima di tutto Diciamolo Io lo leggevo anni fa Con dei miei amici attori Facciamo questi reading Nei centri sociali Col fumetto proiettato E noi Leggevamo Quindi un po' Tipo Audiolibro però Con la visione Anni fa Lui non si ricordava Una volta che glielo ho detto Ho detto No no Non è vero Non eri te Invece ero io In tutte le interviste Io riconosco sempre Ah perché adesso Perché adesso si vanta Con gli amici al bar Dice l'ho scoperta io Perché l'ho portata a Garbatella Lei da lì ha iniziato E no Però Quando lo leggevamo E quello che dici tu Insomma Michele riesce sempre Attraverso i riferimenti Spesso Per la nostra generazione Soprattutto A delle cose Con cui siamo cresciuti Da cartoni Fumetti O situazioni Ad avvicinare tutto E Fa quello che dovrebbero fare Gli artisti Proprio Cioè Di ogni argomento Anche il più lontano Andare a trovare Il punto che smuove Il cosiddetto Inconscio collettivo Che non cambia mai Da sempre Io se state A Siracusa Mi sono vista Lo spettacolo Al teatro greco Bellissimo E ho detto Ah vedi Io mi commuovo Per questa cosa Per cui magari si commuoveva Una ad Atene Nel Mi ricordo quando Voglio di una data Che faccio una figuraccia Poi esco nei video L'ignoranza Di Emanuela Panelli Vabbè Tanti anni fa Comunque Questo è un applauso All'ignoranza Vabbè Però dico Vedi Mi commuovo Per una Per lo stesso motivo Per cui si commuoveva Un'atenese Molto tempo fa E Quando leggevo Con Bunny Calling Noi leggevamo Il primo Il primo viaggio tuo Che iniziava Con la grande domanda Ma che sto fa io qua E finiva Ma non è spoiler Però comunque Dicendo che Forse Il cuore di tutto Sta lì E appunto Andando a toccare Quella parte Nella pancia Di tutti noi Per cui Tutti noi Abbiamo il diritto Di essere felici Lo sappiamo E lo riconosciamo Anche agli altri Ed è quello Il senso di tutto Quindi Si magari mi commuovo Per una ragazza Che sta A Cobane Che io non incontrerò mai E però La sento Molto molto vicina Grazie al modo Che Michele Ha di raccontare tutto Vabbè però Questa è la L'hai fatta apposta No adesso Io scusate Mi aspetto Due tre minuti Di complimenti Sulle cose mie Che ho fatto Lo so La mia ironia Nuova Prego Intanto Sei vestita Da barista Allora Allora Senti È da prima Che dice Lui pensa di fare Questa gag Mo vuole fare La gag Dice da barista Io Il pensiero Che io sia partita Da Roma Per farmi bullizzare Sull'abbigliamento Da zero calcare È una cosa Che veramente Mi manda In estasi Comunque Secondo me Sono carina Io comunque Non voglio fare I complimenti Con lei che sente Quindi non mi piace Anche perché Appena ha insultato I baristi Io non vedo l'ora Su Twitter Che dirò Il ripulito Zero calcare Ce l'ha con i baristi Però comunque Ero molto lusingato Non ho neanche capito Perché hai accettato Questa cosa Se non in virtù Del fatto Che l'avevi già letto E quindi magari Ti sentivi Deve voltare le spalle Però in realtà Io sono stato Molto molto contento Quando mi hanno detto Che avevi accettato Questa cosa In realtà Vabbè Secondo me Tutti loro Facevano un super lavorone Quando lo leggevano Era anche molto meglio Perché non leggevo io In quel momento lì E poi invece Adesso poi È conosciuta Per tutte altre cose Che sono fighissime Divertentissime Che sono una bomba E pensavo Figurati se mai Ce ricasca questa E invece Ce l'ha ricascata Beh ma ha coperto L'ho convinto Ma ha coperto Dei soldi Questo è da dire Melli è evitato No? Puoi di Ce l'hai messi te Certo È da scamia Non è vero ovviamente Io ho fatto buffi Per pagare lei Eh sì Sì Questo è vero Ma quindi Questo è il coronamento Di un'antichissima amicizia Sì Che ora Sboccia nell'arte E dell'audio libero No ti dico Amicizia Manco si ricordava Che ero io Una di quelle che leggeva Figurati Non è vero sta roba Sì Ma comunque Non è mai successa Sì Io ho anche quasi attaccato Il covid Sì ma ho anche quasi attaccato Il covid Non so se ci arrestano No che poi detto così La relazione No No Manco mi fossi divertita Dici almeno Invece no Invece per una cosa Di beneficenza In cui mi ha trascinato No trascinato Stavo molto contenta Ora si incazza No perché io parlo Come se Fossimo tra noi No vedo Ci siamo anche ripresi No Una cosa di beneficenza Stavo molto contenta Di partecipare Adesso Adesso sembra Che non è vero No comunque Quando volete leggere Ditemelo No ma adesso poi Si va pure sull'illegale Però Finita questa cosa No Adesso è una parte illegale Perché Finita questa cosa Mangiamoci una cosa insieme Al chiuso Lì E mangia uno davanti all'altro Così Gestico la cosa E Il giorno dopo Mi chiama Mi dice C'ho il covid E io dovevo andare a Sanremo E i dieci giorni scadevano La sera in cui io stavo sul palco Di Sanremo Che poi vabbè Fa niente da Sanremo Però c'è stata un po' d'ansia Soprattutto per la salute Ma non me lo sono preso Perché c'ho gli anticorpi De Morena Altro quartiere di Roma Molto più importanti Di quelli di Rebibbia Evidentemente Non avremo il mammut Ma c'abbiamo Gli anticorpi Mo' mi richiamano Quelli di Sanremo Perché non ce l'hai detto Che stavi in quarantena Guarda te Io comunque faccio la figura Del gigante morale Che tu ho avvertito Ho avvertito tutte le persone Che hanno stato a contatto Quindi Sì Quello si doveva fare Adesso non per Il gigante morale Una persona morale A me nessuno Io non lo so Come ho preso sto covid E nessuno ha mai chiamato Per dirmi sai Che io c'ho per covid Da quindi Ah sì Tutti gli altri Hanno fatto finta di niente Mi sembra che questo è un paese Che si è fatto largamente I cazzi suoi Su questa cosa Guarda Su questo sì Io chiuderei con una domanda Magari sui personaggi Poi veramente capiamo Se potete Riuscite a leggere Se si può Anche sentendovi chiacchierare Alla fine Si vedono tantissime storie Che emergono Che poi sono storie Di rapporti tra persone Che fanno delle cose insieme Che creano qualcosa insieme Ed è un po' quello Che ho pensato Anche incontrando I tanti personaggi Che ci sono in questo libro E una cosa che mi ha fatto Molto impressione Come anche leggendo Penso che abbia fatto impressione A te Michele È che tu incontri Delle persone Che magari sono lì Che ti danno la tazza di tè O ti ospitano in casa E sembrano persone Completamente Non lo so Non inoffensive Ma persone che non hanno nulla Che le farà ricordare Dalla storia E dall'universo In realtà poi Parli con Il vicino di casa Che ti dice Questo ha combattuto Questo è stato In galera Questo è stato Un oppositore Punito dal regime In centomila modi E È come se Ti spalancasse Tutta un'altra realtà Che tu da solo Non potevi percepire Ma che comunque è lì E che crea Quella persona lì E la rende Incredibile E la rende anche Molto impegnata Da quel punto di vista Lì davvero Per quella grande causa Di cui stavamo parlando Che è un po' Il cuore di tutti Dovrebbe essere Sì Io questa roba La percepisco sempre Quando vado In quei posti là Nel senso che ogni volta Ci vado Qualche amico scemo E magari pensiamo Guarda questo Che ci attacca la vipa Che palla eccetera E poi scopri subito Che invece Anzi non subito A un certo punto Scopri invece Questo lato Che ti fa sentire Un verme proprio Ma credo Che dipenda pure Dal fatto che Noi siamo molto Noicentrici Nel senso che Tendiamo a guardare Tutto con le lenti Della vita Che facciamo Qui noi Che sono delle vite Assolutamente Degnitose Ma molto privilegiate Per un sacco di cose Mentre invece Nella biografia Di tante persone Che stanno là L'incontro col carcere L'incontro con La violenza L'autorità Le massacri Eccetera È qualcosa Che La traiettoria Di una vita Normale La attraversa Spesso E quindi In realtà Ci sono Posti che In qualche modo Plasmano Le biografie De chi ci sta E che Rimangono persone Comunque Molto normali Quindi Quando tu ci parli Mentre ti prendi Il tè Non lo sospetteresti Mai Eccetera Però Per loro È naturale Che Oggi Si prendono Il tè E Un mese fa Gli è scoppiata L'autobomba Di Daesh Davanti O hanno dovuto Resistere A un Assalto De Daesh Nel campo profughi Daesh Esiste Scusate Nel campo profughi Dove Abitano Eccetera Cioè Ci sono delle cose Che per loro Sono quotidiano E noi dobbiamo Fa un grande lavoro Proprio De sforzo Per Metterci in testa Questa cosa Che le vite Nel resto del mondo Non sono tutte Come la nostra Emanuela Tu che Che idea ti sei fatta Un po' perché Insomma Hai letto i personaggi femminili Hai letto un grande personaggio femminile Importante Ma che idea ti sei fatta Leggendo il libro Delle donne Insomma Di quello che succede Là alle donne Di quello che possono fare Di quello che stanno cercando Di fare per cambiare Beh Io Quando l'ho letto Anche la prima volta Per ignoranza Ovviamente Non conoscendo Sono rimasta Molto sorpresa Lo dice poi Lo dice poi Michele Nel libro Che hanno una costituzione Che magari avercela Così Soprattutto sul ruolo Femminile Sulla parità Dei diritti E poi E poi comunque Giorgio hanno queste donne Io Lì dico Certo Io pure Capito Penso Magari faccio le battaglie mie Su La questione del mazzo di fiori No Forse sì Forse no Chi paga il conto Chi paga il conto Il patriarcato Che battaglia Cioè Quella è una cosa importante Però questo è appunto Il benaltrismo Perché allora io dovrei Chiudermi a casa E di scusate tutti Perché lì stanno facendo Delle cose Più importanti Quindi A parte che in questo momento Io sento Molto la questione Immagino Come te Veniamo chiamate spesso No Ok Ho detto il mazzo di fiori Per esempio No Il mazzo di fiori Basta Il segno Di sottolineare Una cosa Che poi Ti ritrovi lì E io penso Dio ma Boh A me piacciono i fiori Forse perché sono ancella Del patriarcato Oppure perché mi piacciono i fiori Quindi Sono temi Su cui io mi interrogo Veramente Non voglio fare la battuta Quindi E ogni volta Poi ce n'è uno nuovo Il conto Le cose Poi ci sono quelli La parità di salari Ecco Quello mi sembra Molto interessante Però è una tematica Su cui tutte noi Ci interroghiamo Perché sta cambiando La sensibilità Per fortuna Su alcuni aspetti Quindi La prima volta Che l'ho letto Ho pensato proprio Vabbè ma io Non sono nulla Rispetto a loro E un po' Lo penso ancora Però per ignoranza Credevo Invece approcciandomi A una cultura Così diversa Che fossero Molto più Meno avanti Ecco Invece ho scoperto Che anzi C'è tanto Da imparare Ma infatti È una delle cose Che vengono fuori Anche ogni volta Che si parla Del matusta Resti qua E del Andiamo ad esplorare Questo posto Che a noi Viene descritto In un determinato modo Perché non c'è niente da fare Quando ti avvicini Magari Perché hai sinceramente Voglia anche di imparare Di dire Colmo una lacuna Voglio saperne di più Però tu comunque Ti avvicini Partendo da una prospettiva Che è quella Del tuo contesto E un po' magari Rischi sempre di O essere un po' Schiacciato dal senso Di colpa Del dire Ma io qua Non ne so abbastanza Non l'ho fatta abbastanza Ma anche quella di dire Io arrivo E la sto già giudicando Con Con gli occhi Che ho Ma perché sono immerso In un determinato contesto Non necessariamente Perché io Non voglio vedere O non voglio aprirmi un po' Cioè Anche scrivendo Michele È una cosa che Hai trovato difficile Da far funzionare Cioè Sicuramente il tuo È anche un grandissimo lavoro Di prospettiva Di aggiustamento Della prospettiva E di franchezza Rispetto Quello che so Quello che voglio imparare E non quello che necessariamente Vi voglio insegnare Perché Ah eccomi Arrivo e pontifico Ma tu sei sempre Molto sincero Molto diretto Anche quando impari Secondo me Sì ma Parti dal presupposto Che in realtà Anche se poi Tutto Viene risucchiato In un imbuto Su cui poi esce Il nome Zero Calcare Sulla copertina del libro In realtà Questo è un lavoro Super collettivo Nel senso che comunque Non è un viaggio Che io ho fatto da solo L'ho fatto con delle persone Dalla stessa Dalla stessa Esel Alle altre persone Che stavano con me In viaggio Con cui ci siamo confrontati Tantissimo Abbiamo parlato un sacco Anche per capire Quello che ci succedeva intorno Nel senso che Ogni sera Comunque Ci Mentre qualcuno Magari Sbobbinava le cose Che avevamo Registrato Oppure si scaricava Le foto Che aveva fatto Eccetera Ci parlavamo Cercavamo di dare Una lettura De confrontarci Su quello che avevamo visto Che spesso È qualcosa Che dovevamo Proprio interpretare Perché era anche Complicato Da capire Mentre lo facevo L'ho fatto A stretto contatto Mentre facevo il libro Con la comunità Curda romana Gli facevo leggere le cose Dicevo Ma questa roba L'ho capita bene No Eccetera Cioè In realtà È un Cioè Il motivo per cui Poi io Tendo a Non A non fare mai Quello che Mo spiega La verità rivelata È perché io non ce l'ho La verità rivelata Cioè A me me la devono Proprio spiegare Prendendomi per mano Le cose E E quando non capisco Tendo a chiedere E nei fumetti Ci metto Tutti i dubbi miei Ma perché penso che Sono i dubbi Delle persone Che leggono Nel senso che Chiaramente Questo fumetto Non è un fumetto Che si rivolge Al super esperto De Medio Oriente Che sa già benissimo Tutto Quindi in realtà Mi immagino Che il lettore Casual Che Qui arriva e manda Questa roba C'è tutta una serie De dubbi De incertezze Che sono le stesse mie In parte Magari io le ho risolte Prima di lui Perché le ho chieste prima Però Rimetto in scena Anche quel tipo De dubbi E di domanda In modo che nessuno Si senta Che io do per scontato Qualcosa E che invece Ognuno Faccia un po' Lo stesso percorso Che ho fatto io De comprensione E anche laddove Io magari Non ho capito Delle cose O c'ho ancora De dubbi O non ce l'ho chiaro Io provo a metterli Tutti sul piatto Ma perché penso Che è sempre meglio Metterli sul piatto Perché se non lo fai Cioè tutte quelle Che sono le zone grigie Che tu Non dichiari prima È come quando Uno c'è il fumo Io non fumo Cioè non mi drogo Da quando ho 17 anni Però è come Se tu c'è il fumo E le guardie Gli dicono È meglio che lo tiri fuori te Perché se ne lo troviamo noi È peggio E questa cosa Secondo me Vale sempre Anche nei fumetti Nel senso che Se tu cerchi di fare Il furbo E una cosa che non hai capito Cerchi di rimuoverla Arriverà quello Che ti fa la domanda E tu fai la figura Del coglione Chi lo sa Io Vi farei leggere A questo punto Santo cielo Ce la facciamo Ma non ci sono leggi Vuol dire Hanno capito Che non si poteva fare Allora guarda C'è una cosa Una sagoma Che si muove No è uno Che sta andando in bando Sì sì Non c'entra niente No guarda Sta arrivando Possiamo evitare Secondo me hanno capito Che non si può fare E invece no E invece eccoli Invece no Che regi Pensavate di scamparla Io vorrei dire Soltanto una cosa Voi pensate Che questo è un siparietto Che ci siamo preparati No Proprio no Io mi scuso prima Lei è un'attrice Farà una cosa bellissima No 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 Fa sta roba Io no Non mi accollare Questa responsabilità No Non sarà così Ma vuoi leggere pure La parte mia Facendo Imitando la mia voce Vediamo se le pagine Sono giuste Mi segnalo solo Il tracollo mio Di carriera Che mi trovo A recitare Zero calcare Questo è Ero partita bene Ma Non sta andando Come dovrebbe Ti stai giocando malissimo Le tue carte Tutto Tutto Tu l'ho sbagliato Io poi non so Se sto diventando presbite Quindi ce l'ho pure Mentre Ti giuro Ci hai spettinato Con questa botta Di gioventù Prima ha detto Devo passare Che mi sono scordato Lo spray del naso Quindi Questo Del tarino Ecco Lo vedi Dove uscire E Vabbè Quando te la senti Un secondo Devo fare un Conto alla rovescia Ditemi Se vi posso aiutare In qualche modo Mi metto qua E li ascolto Che bello Bene Prego Emanuela Fanelli E Zero calcare Cobane calling Madonna Dottio No no Non applaudire Ve lo rimangerete St'applauso Quindi Dai ragazzi Dateci una mano Dopo Vabbè Va Vai Vai Dopo esserci persi 66 volte Troviamo finalmente Esel Ragazzi Ci siamo trovati Finalmente Pensavo che non arrivavate più Esel è una pischella Curda Nata in Turchia Che vive in Italia E se non c'era lei Sto fumetto Era tutto un Oh secondo te che ha detto Boh quella cosa Con le dita Testaccio significa Devi pagare parcheggio Perché non abbiamo fatto Il viaggio insieme Dagli Italia Non si sa Mi sa che era troppo logico E non ci davano abbastanza Punti di SEO Allora Fatto buon viaggio Siete pronti Avete mangiato Andiamo Mica siete stanchi Forza 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 Ecco Esel ha 25 anni E sta sempre carica A pallettoni Ma allora partiamo subito Adesso Verso il Rojava Sì andiamo Certo c'è un problema La frontiera non mi risponde Il bastardo È il telefono spento Aspetta lo spiego bene Siccome la frontiera Tra Siria e Turchia È chiusa L'unico modo Per entrare legalmente In Rojava Che sta in Siria È dalla porta di Semelka A nord dell'Iraq Solo che la Gestiscono gli iracheni E soltanto loro Possono autorizzarti Esel scusa Ma se non ci risponde Come si fa Proviamo uguale Andiamo Ma noi andiamo Poi vediamo Facciamo Fare o non fare Non c'è provare Forza 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 Ma perché non andiamo Prima sulle montagne A Candil Alle basi del PKK Così intanto Ci abbiamo più giorni Per vedere se la frontiera Ci risponde Ok per Candil Bisogna chiedere però Mica è come andare A trovare una squadra Di bocce PKK È movimento guerrigliero Clandestino Devono dirci loro Oh a questo punto Io non so bene Cosa posso raccontare E cosa no Insomma io non vorrei Essere responsabile Dessa cosa Tipo Signor Erdogan Come avete fatto No oddio scusatemi Raga Questa è un giornalista Che gli chiede una cosa A Erdogan Ma che te faccio a te Ma che cazzo mi sono Signor Erdogan Come avete fatto A debellare la resistenza kurda Che durava da più di trent'anni Ci ha aiutato Grande fumettista italiano Ha fatto disegnetto Su come trovarli Io già mi immagino La statua che dice Zero calcare Genocita dei popoli Qua c'è un salto temporale Non è tutto Vabbè È un salto temporale Il 20 luglio Dei giornali Non si capiva bene Forse Ma essere colpito È stato il cuore Di tutte quelle anime inquiete Che da ogni angolo del mondo Sentivano di poter contribuire Alla battaglia dell'umanità Era scoppiata una bomba In verità Al centro culturale kurdo Dove stavamo noi A Meser E aveva ammazzato Più di trenta persone Tra turchi solidali E kurdi stessi Mentre lo scrivo Realizzo che lo stesso giorno Quattordici anni prima A Genova Moriva Carlo Giuliani Sui giornali turchi Sui giornali turchi Dicono che è colpa del PKK Sempre bugie Niente di nuovo Scusa Esel Forse sto scemo io Però mica capisco Hanno colpito un centro kurdo E ammazzato Chi andava ad aiutare i kurdi Quindi gli amici del PKK Così Per semplificare Come fanno a dire Che è stato il PKK Che si colpisce da solo? Dai ma chi ci crede a ste cazzate? Domande Troppe domande La Turchia non è un paese di domande Il giorno dopo hanno detto Che forse era l'ISIS Oppure il PKK E l'ISIS insieme No La Turchia non è un paese di domande Mo c'è un altro salto temporale Perché è un'altra cosa E lo so Ragazzi non si capisce Siamo essermos matti Che invece così Siamo a fare Bella figura No no vabbè Vai 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 Tu puoi fare gli stacchetti Dai Erbil Per arrivare alla frontiera di Semelka Ci vogliono tipo quattro ore Niente Non risponde Io gli avevo detto Che oggi venivamo alla frontiera E lui che fa Spegne il telefono Scusa Esella Ma lui chi? Chi è che sta chiamando? Lui che controlla la frontiera Il bastardo Sta cosa ci mettiamo un po' a capirla Perché per noi Le frontiere sono delle cose nette Definite Tipo la matematica Con le sue regole Opzione 1 Zero Calcare vuole andare a Berlino Cosa gli serve? La carta di identità Perché c'è Schengen Opzione 2 E se vuole andare fuori Dall'Unione Europea Gli serve il passaporto Opzione 3 E se non è sicuro Di cosa serve Per entrare in un paese Cerca su internet Oppure chiama il consolato Questa sicurezza però È il risultato di due fattori Una cittadinanza occidentale E un sistema in cui Questa cittadinanza Vale qualcosa Qui invece Tu ti devi rassegnare Al fatto che Larghi aspetti della tua vita Dipendono da decisioni Assolutamente arbitrarie E non codificate A volte anche Di una persona sola Una persona tipo Il bastardo Il bastardo È il funzionario Del Kurdistan iracheno Che dirige la frontiera Ogni autorizzazione Concessa o negata Passa da lui Io me lo immagino Tipo i cattivi Di medio livello Di cani il guerriero Con il loro piccolo potere Da amministrare Scusa Esel Ma ci puoi dire Come si chiama Che se noi ci abituiamo Così a chiamarlo bastardo Magari poi ci scappa Davanti a lui E lui rosica No Lui è bastardo Tanto non capisce italiano Io giuro Che non sono riuscito A trovare un criterio Chiaro Per chi passa Quella frontiera E qua è finito Che sei fatta Grazie Scusate Il Benny Hill Ma dove lo portate Che bella gag Ma si è rotto Ma dai Ma manco le basi Da sotto si prende Aspetta Non fatevi male Non so se sono assicurati Devo tenere Ok Questo è il patriarcato Sconfitto A posto Ma Vi sta portando via lei Non so Non so Ha preso questa iniziativa Se la vuoi fermare Fermala No no Perché non No L'ho tolta Sono uscita di scena bellissima Andare via così Ma è la famosa cosa Intanto che sei in piedi Emanuele La fai anche in guerra Già che ci sei Portali Bene Io ho delle informazioni logistiche Che sono banalmente All'uscita Ci sono questi splendidi Meravigliosi cartonatini Che vi verranno donati Quindi quando uscite Ricordatevi di Di ritirarlo E se finiscono Non creiamo Zuffe Violenze E cose Drammatiche Se finiscono lì Ce ne sono ancora Allo stand di BAO Mi hanno detto di dire Quindi io eseguo Come un piccolo soldatino E vogliamo Vogliete aggiungere qualcosa Di irripetibile Meraviglioso finale Direi che Salutate Scusate No grazie a tutti Ah ma qua c'è la corsa I cartonatini Vedo Mi sa che i cartonatini Vabbè Grazie a tutti Scusate Non avevamo capito Che eravate così Tanti Un'ansia Speriamo di non avervi Rovinato Perché si vogliono Rimendere su ebay Comunque Certo Ciao grazie davvero Grazie È stato un piacere Ciao 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 Ciao